Da Bergamo, dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia, la quinta giornata di ritorno, Atalanta contro Parma, il Parma prova ad entrare nella storia cercando di trovare appunto il dodicesimo risultato utile consecutivo, sarebbe un record, il Parma è guagliato settimana scorsa, il record di unici gare consecutive senza sconfitte nella storia della società. Traversone i bienveni, cerca di arrivarci in un secondo pallo Molinaro, da ripoca, c'è il cristio, gol! Molinaro! 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 Incredibile! Nove minuti di gioco Molinaro, prima gara a titolare, gol nel Parma! Invece sembra voler andare da lì la conclusione, Mirante su Baselli, poi attenzione un fallo in attacco, Baselli gran botta, Mirante con i pugni, Carmona, Carmona tracciante dentro, il copo di testa di Deris, pericolo Mirante! Mirante super su Morales! Bienveni, bienveni, area di rigore, bienveni, mezza 4, bienveni, cerca il tiro, fuori, non di molto! C'è riviazione, c'è anche angolo allora, primo corner dell'incontro per il Parma. A qua, 20 metri, Gargano, perché non calci da lì Walter? Vuole Cassano, Cassano dentro per Paladino, gran palla, Gargano è solo! Gargano da parata di consigli con i piedi, non ci credo! Clamorosa parata di consigli con i piedi, poi ancora cross di Molinaro. Parma, classica situazione, è libero di testa, Mirante ancora! Mirante ancora con un balzo, Felino! Fu Buonaventura, giusto! Palla a Gresta, giocabile da Baselli, che da lì fa partire il tiro, Mirante a terra. Mirante a terra, ancora sicuro Antonio. Bienveni ha un po' di campo per affondare, bienveni raddoppiato, da tiene, bienveni vuole calciare, deviazione di Iepes, consigli! Si allunga sulla destra, stava saltando fuori un'altra autorezza, troppa grazia direi. Però ci prendiamo questo corner sul buon tiro di destra di Bienveni. Fuori Paladino, dentro Schelotto, Vischi del pubblico di Bergamo per Schelotto, li sentite? Cassano, Cassano si coordina, cercava addirittura Schelotto, la botta al volo di Marchionni! Schelotto col tacco, non ci credo, parata di consigli. Schelotto dopo due minuti, accolto dei fischi del pubblico, solo questo. Cassani, secondo palo, autogol di Benaluan, non ci credo! Johan, l'autogol dell'ex, mi spiace ma Autorete. Benaluan, Autorete, colpetto! Benaluan, 0-2, Benaluan, Autorete! Benaluan, Autorete! Cassano, va Antonio, oh, gol! 3-0 Antonio! 3-0 Antonio! 3-0 Parma-Bergamo, che spettacolo! 3-0! Cassano che poi, vediamo chi dedica il gol stavolta, vediamo. Cassano da Donadoni o da Melli, non so. Unari, parola ora, Marco, dentro, gran palla per Schelotto, Schelotto, Rete! Incredibile il gol dell'ex, Schelotto che poi non esulta ma è 4-0 e c'è il gol di Galgo Schelotto! Poker sulla ruota di Bergamo, poker per il Parma, che spugna l'Azzurri Italia! 4 gol del Parma, 2 di nuovi acquisti, Schelotto e Molinaro, un grande Parma, un Parma immesso che entra nella storia. 12 risultati!